Bella mostra nella palestra della Scuola dell'Infanzia Lombardo Radice di Caltanissetta con gli elaborati di oltre 100 bambini di 4 e 5 anni delle Scuole dell'Infanzia Lombardo Radice e Palmintelli dirette da Antonio Di Blio. Si tratta dell'atto conclusivo del progetto Informarte che ha come obiettivo quello di sviluppare attraverso l'arte ed in particolare la pittura il senso estetico dei bambini e la capacità di riconoscere la propria cultura ed esplorare il proprio mondo interiore. Lo spirito è stato quello di avvicinare i bambini all'arte non tanto educandoli all'arte quanto con l'arte, tirando fuori i propri sentimenti e rappresentando le proprie emozioni. Sono circa 300 le opere realizzate dai giovani alunni delle due scuole che le famiglie potranno ammirare sino a domani. A curare il progetto oltre al responsabile Anna Pullara sono state le insegnanti Tiziana Stringi, Laura Salvaggio, Valeria Ubriaco, Maria Rosa Giannone, Cristina Allodato, Maria Rosa Grasta, Giusy Cellauro e Giusy Guerrera. La mostra è stata dedicata al compianto dirigente scolastico Gaetano Falci, scomparso nel settembre scorso.